ciao a tutti benvenuti in questo nuovissimo video video si oggi finalmente faremo la valigia per la nostra vacanza in sardegna cosa stai guardando la mia colana ti piace anche a me mi piace tantissimo vorresti anche tu e dopo lo togli va bene te lo do dopo ok allora come vedete qua abbiamo un casino la valigia sul letto ci sono un po di cosine ma dove va erica ciao a tutti eccola ciao erica ma come sei intratta la quando un braccialetto ok ragazzi e ragazzine erica sei pronta ieri siamo stati a un negozio abbiamo trovato delle scarpe nuove piccole le capo volete vedere cosa che erica è contentissima perché ha trovato le scarpe che gli piaceva volete vedere si vogliamo 1 2 3 wow vediamo eccole colore rosa è un po di grigio la ho preparato un po di cose sono i costumi ma dov'è la vanessa era un minuto qua dov'è non lo so vanessa dove sei dov'è mettiamo qui dentro eccoti ma cosa stai facendo un baccialetto stai nascondendo ok cominciamo siete pronte si dovete prendere i vestiti per due settimane praticamente sono tanti giorni tanti giorni 14 giorni e la nonna facendo un ordine cosa sta facendo la nonna sta stirando adesso si è facendo i vestiti i vostri vestiti anche i nostri giusto anche di cominciamo apriamo questa gigantesca valigionna fatto la nostra umile e grande valigia allora abbiamo preparato anche i costumi ok un po alla volta se vedete qua ho preparato una lista con tutto quello che ci serve per la vanessa per la erica e qua c'è per papà per la mamma per tutti quanti c'è questa borsa per la spiaggia e dentro potete mettere i vostri costumi e qua c'è un altro sacchettino dove metterete le mutande e i calzini va bene ecco questo è il tuo sacchettino ecco questo è il tuo sacchettino questo è per asilo si 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 quello lo prendiamo anche all'asilo tutti e due eh va bene ok cos'hai fatto hai messo gli occhiali ti stanno benissimo sai eh sì dovrai scegliere il costume va bene questo fammi vedere il tuo costume le mutande ecco sono i due A eccoli le mutande e anche questo top guardate è bellissimo mi piace tantissimo l'abbiamo preso qualche giorno fa ok questo lo mettiamo là dopo ce l'hai un altro costume cos'è il mio mutande ma questo no 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 quello non ti piace è il mio mutande anche le tue mutande metti dentro cosa dici prendi questo si va bene no 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 perché no è troppo piccolo è bella vostra no ma non è piccolo si è piccolo è un altro modo da dirmi che non ti piace giusto ma quello mi piace di più quello ti piace ma devi prenderti due due costumi anche questo ma dov'è quello rosa è sul stendino dai andate veloce prendete quell'altro costume anche tu Vanessa vai 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 mamma mia un casino ragazzi un casino abbiamo dieci minuti ancora non abbiamo preparato abbiamo preso preparato vediamo allora ragazzi questo è il mio ma lo devi girare va bene l'abbiamo messo sul stendino perché siamo stati al lago e anche il mio e l'abbiamo lavato e anche il mio dove è il tuo ecco aspetta ecco il fiocco guarda ma è bellissimo il mio costume è denso ti prendi anche questo ha un bel profumo appena lavato visto? poco è bagnata mettilo dentro no non è bagnato è freddo freschino ok i costumi li avete messo dentro e anche questo c'è? fammi vedere quello quello di chi è? di Vanessa cosa? questo condomato in naso vediamo stanno bene i occhi quando metti in naso vediamo vediamo questi occhiali sono uguali a me sono uguali wow sei così carina vuoi vedere come alza su guarda alza su quando c'è sole quando non c'è sole li metti sopra giusto? eh sì ok prendiamo anche questi calzini guarda questo fiocco bello sì questi sono di Erika tieni mettili dentro e cerchiamo quell'altro di Vanessa eccoli questi calzini ve li darò quando usciremo a mangiare al ristorante o fare una passeggiata perché siamo a settembre e di notte è un po' friggino diciamo io ho un tatuaggio con un dinosauro un dinosauro sì quello verde quello verde va bene prenderemo anche il kit io prenderò un vestito e voi mi dovete dire se vi piace o no va bene questo Erika cosa dici? sì è bellissimo è bellissimo questo sarai così bella come una principessina volete sentire una canzone? sentiamo vola non fa falle schiaccia nella pelle e conosciamo tutti questa canzone e ne poi di tu youtube non questa notte youtube non 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 e stare non è basta adesso basta perché basta? sta cantando bene ha una bella non fa falle basta dai ragazze dai che ore sono? fra poco si deve mangiare sì ok fatto Vanessa adesso guarda questo vestitino per te dove sei? dove sei? cosa dici? Vanessa ti piace questo vestito? io voglio cantare niente allora per Vanessa dovrò pensare io vediamo cosa c'è qua guarda questo cosa dici? ti piace? questo no questo no allora Vanessa Vanessa guarda c'è questo vestitino dove c'è tutto un altro con le farfalle quello con le farfalle vediamo giro non farfalle ecco ma è bellissimo vediamo queste farfalle ecco le perfetto Vanessa metti qua voglio questo io voglio questo io guarda me ok mettilo là sopra e anche tu Vanessa mettilo là sopra Vanessa Vanessa mi senti dai mi gira la testa ti gira la testa mettilo qua allora due due il terzo guarda questo Erika per andare in spiaggia no perché? no mamma mia queste ragazze questo invece dobbiamo prenderlo al battesimo di Adam questo vestitino è bellissimo oh mi piace tanto sì mi piace quello eh ma quella non si prende adesso ecco questo no questo no quello per andare a una festa di compiani matrimoni battesimi ma non in spiaggia non c'entra niente quel vestito guarda questo no 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 sì invece ce lo dovrai prendere signorina ma non mi piace ecco come non ti piace ma la voglio Erika ma non cominciamo con i capricci ragazzi vi dovrò dire che Erika è una bambina che cioè fa il suo stile facciamo tanta fatica con lei a fargli i capelli perché le devo fare i capelli ogni due tre quattro minuti i vestiti li cambia cinque sei volte al giorno guarda che io quando sono piccola è più grande vediamo è più grande no io avevo due anni qua è una foto con voi dove Erika aveva due anni e la Vanessa era appena nata piccolina e quanti anni aveva? mi sembra che aveva sei sette mesi eh sì volete vedere cosa? altro questo è per Vanessa che bello bellissimo Vanessa ti dovrai prendere anche questo guarda e c'è anche questo no la Vanessa si dovrà prendere questo vestitino c'è anche questi due eh sì ecco vi facciamo vedere questo è per mio e qui l'altro quello è tuo ma sai questi vestitini Erika vi li hanno regalati Cristi con Gabi eh sì lo sai prendo un piano quando io sono piccato papi aspettate mio papi c'è quando mio papi è un buon quando sono andati a casa di Gabi Cristi e Gabi allora non ho capito niente ho capito che papi è a casa di Cristi e Gabi ma non ho capito niente quando lo prendo io non voglio una una cavallo di boatale ah ho capito e c'è e mamma di Cristi e Gabi avevo sentito oh 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 e chi era? babbo la tale che gli faceva dog 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 giusto vi ricordate perché ragazzi a me mi aveva dato un regalo che c'era la pastellina quello con Olaf con la rena quello con quello con è insieme quello con l'Anna sì ragazzi l'anno scorso il nostro Natale no Capodanno l'abbiamo festeggiato a casa di Cristi e Gabriel e all'improvviso è arrivato Babbo Natale e anche i roselli sì l'abbiamo visto tutti aveva la pancia grossa grossa era grosso e anche abbiamo ballato con lui vi ricordate e il Babbo Natale l'ha fatto così e ha ballato perché era un po' più giovane quel Babbo Natale e aveva la babba lunghissima e aveva mangiato tanto caramello e caciuto così grande dici cosa Vanessa cosa stai pensando? quando io sono più che io sono anche abitati a casa e finiamo finiamo il discorso perché possiamo parlare tutto il giorno adesso dobbiamo preparare una maligia dai ci sbreghiamo con il gattino sì di là c'è la maletta adesso non prepariamo le malette prendiamo un altro vestito ecco Erika a te e c'è questo con il gattino prendiamo tutti e due sì perché tieni un po' allora questo praticamente si può prendere in spiaggia ragazzi è molto molto leggero ok questo lo prenderemo in spiaggia è di là nella valigia come sempre è un po' fadessi eccola ok e questo è mio lo possiamo prendere fuori alla sera perché potrai prendere anche una maletta a maniche lunghe ok mettiamo anche questo là vediamo quanti ce l'hai tu due tre quattro cinque due tre quattro cinque cinque e poi mettere anche quello e basta vestiti basta no qua 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 ecco è mio quello sì questo è tuo cinque invece la Vanessa allora uno due tre quattro e cinque dobbiamo metterlo quattro vestiti sì ok dobbiamo prendere c'è questo c'è quello ma no è troppo grosso quello Erika è troppo grosso quello no facciamo così per la Vanessa prenderemo un altro vestito anche questo anche questo non è male ma no ecco questo è sempre leggero ecco bellissimo leggero prendi una maglietta e lo devi abbinare con i pantaloncini corti vediamo quella maglietta ce l'ha l'alfabetola ok e tu cosa stai facendo sto sentando una scimietta vale la montagna ok io sono scimietta questi ok sono lunghi sì a me sembra di sì sì però bene ma non sono lunghi poco ecco così perfetto e li metti insieme ok questo pronto primo look questo sarà un look per giocare in casa perché di là in Sardegna avremo una casa tutta per noi e sarà con noi un'altra famiglia con un bambino piccolino che si chiama Ahmad no ma cosa stai dicendo stai scherzando si chiama Gabriel è piccolino non ha neanche un anno giocheremo con lui è a zero anni zero anni ah sì prendi anche questi guarda che sono bellissimi sì guarda anche questa malettina con i corecini guarda sì vanno benissimo insieme ecco vanno benissimo insieme questi shorts staranno su su questa maglietta così vanno benissimo insieme fatto e la Vanessa si sta nascondendo là eccola secondo look il terzo look il quarto look e il quinto fatto a me piacciono tantissimo ragazzi questa bellissima maletta anche questi shorts piccolini guardate guarda questa malettina cosa dici Vanessa ti piace? sì ti piace? la prendiamo ok vediamo il look che lo facciamo prendo anche i shorts eccoli questi ragazzi adesso Erika sta riprendendo tutto eh sì ok vediamo Vanessa ecco questi vanno bene insieme Vanessa cosa fai? questi vanno bene insieme c'è questa malettina e guarda qua guarda io sono uno per questo sono un po' più lunghi i pantaloni li possiamo abbinare con questa maletta che ha con le ciliegie ma ci sono anche i pantaloni con le ciliegie sì vanno bene vanno benissimo si possono cambiare anche sai dipende perché praticamente le uscite non saranno così tante perché ho caldo no Vanessa no adesso facciamo il video no cosa stai facendo ho caldo dai resta così allora questi sono i miei pantaloni sono due pigiami uguali ma vediamo questi sono i miei per 3-4 anni questa è la pigiama di Vanessa ecco abbiamo deciso di prendere una pigiama un po' più grossa perché di note la fa tanto freddo guardate è bellissima dopo ho pensato di prenderti anche questi pantaloni sì sono leggerissimi ecco sono anche questi vediamo se non mi sbaglio questi allora 3-4 anni praticamente sono di Vanessa questi invece quelli di Erika sono questi ecco 3 paio di pantaloni li prendiamo tutti i tre guarda questa è la mia maglietta è la tua maglietta questa la prendiamo la prendiamo ciao di là è bellissima vuole fare la scena ok per la Erika ha fatto preparato tutto adesso prepariamo anche per la Vanessa 2 paio di pantaloni ci sono anche i leggings vediamo quali li prendiamo perché c'è un po' di scelta ci sono questi con i fiori guardate vediamo 3-4 anni sì per la Vanessa dopo ci sono questi sempre con i fiori che sono azzurri e ci sono anche questi dove sei? ecco ti sei lassù salita di nuovo? sì ok prendiamo per la Vanessa e guardate dove è la Vanessa? e tu dove stai andando? fate attenzione intanto sistemo qua le cose questi questi fatto cosa stai facendo? dai fai attenzione guarda che quella si può rompere non te l'ho incappata ah venite giù tutte e due va bene tutte e due venite giù dai fate attenzione ok io sono salito da sola da sola l'ho vista fate attenzione ecco io oggi non finisco a fare la valigia con voi vieni qua in braccio opla eccoci vieni giù ragazzi ragazzi non ce la faccio più sì ma però ma però cosa? ma quando andiamo? ci dobbiamo sedere un po' ci dobbiamo dare una calmata perché ancora perché ancora dobbiamo prendere le scarpe eccola è andata di nuovo lassù ma dove vai? ancora ancora in braccio ma cosa stai facendo? piano ecco ti vieni giù io anche tu vieni anche tu stai così pesante ci riesci Erika? Vanessa aiutala Erika poverina non siamo su ecco mettetela giù Vanessa quale zaino lo vuoi prendere? guardate c'è questa è una merendina metti giù metti giù è una merendina lo vuoi mangiarla? adesso? sì ho tanta fame cosa c'è dentro Vanessa? forse è da quell'altra parte ok tu cosa dici? ti prende questo zaino? ok Erika si prenderà questo zaino invece la Vanessa Vanessa quale lo prendi? questo con l'unicorno? no no o quello? quello vediamo cosa c'è dentro c'è il cracker c'è un'altra merendina e le bolle mamma mi voglio prendere questa che è bellissima fammi vedere c'è il mini è una borsina sai chi ha fatto questa borsa? sì lo so mamma di Denise chi si chiama? Olga eh sì lei fa tante borse è una ragazza veramente bravissima ecco un po' le cose sono aggiustate adesso fammi vedere quale sireneta ecco la vuoi prendere? sì allora lascio qui le bambine hanno deciso cosa prendere i vestiti un po' le scarpe i giocattoli tutto quello che diciamo a loro piace di più ragazze dobbiamo prendere anche i libri perché noi alla sera leggiamo sempre una storia ecco vi facciamo vedere aspetta che voglio girare la camera fatto guarda io ho preso i libri vediamo che libro hai preso tu questa la sireneta va bene e c'è questa? questo è un libro fate da sogno guarda le più belle storie della buonanotte eh sì oggi si va con la barca oggi si va con la barca ma no no oggi sabato si va con la barca con il draghetto quello grande perché di là ci stanno tante macchine ci sono le camere c'è il bar c'è tutto allora entriamo con la macchina dentro sì dobbiamo entrare dentro con la macchina praticamente saremo tre famiglie no tre quattro famiglie eh tre macchine e c'è anche un bambino piccolino sì c'è un bambino piccolo e sarà un altro che ha 2 anni sì sarà dopo un altro bambino che si chiama Christian lui è un po' più grandino e come si chiama? Christian e quanti anni ha? allora lui se non mi sbaglio ha 6-7 anni più o meno così va bene ragazzi il video finisce qui speriamo che questo video vi sia piaciuto ma mi dobbiamo mettere le scappe per andare adesso io perché loro ancora sono piccoline dovrò mettere tutta questa roba dentro girà nella valigia e forse prenderò anche la Vanessa e qui la scatola ma cosa stai facendo? ragazzi vi dovete iscrivervi al nostro canale dovete attivare la campanella così riceverete sempre le notifiche ok? perché fra qualche giorni uscirà un altro video con tutto il viaggio che lo faremo praticamente 10 ore di viaggio ragazzi 10 ore fino in Sardegna e la faremo anche dei altri video vi aggiorniamo vi mandiamo tantissimi coricini viaggio 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 viaggio